Siamo arrivati, il finale! Tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale, tutto si decide oggi, ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei, credetemi. Ed è iniziata la finale, oddio abbiamo già perso palla, no, piano, piano, ok. Madonna mia, cosa stava per fare? E' il seguito di Gibson, è l'1 a 0 al sesto minuto, manchia moltissimo, piano, piano così che nelle finali non si può mai dire nulla, 1 a 0 al sesto minuto. Gibson sta stragiando ragazzi, mamma mia UlaLan, UlaLan semina panico, UlaLan semina un sacco di panico, così, con faggine panico, è l'1 a 0 al sesto minuto, 2 a 0. 3 a 0 al diciassettesimo minuto finale, mamma mia come ci stavo riprendendo, mamma mia, all'ultimo tentativo poi, eh, attenzione perché, credo addirittura di finire questa partita quando il torino è finito, quindi, sta cosa non mi piace però try. Mamma mia, anche qua c'è una bella azione, anche qua c'è una bella azione, raga, no palo, dai cavallo selvaggio McLean, dai cavallo selvaggio McLean, che li si elimina ancora tutti, McLean, vuole finirla, vuole finirla, è bello, è bello il passaggio, è bello il passaggio, è bello il tiro, oh signore, oh signore, attenzione, è tra 1, dobbiamo stare attenti, Non vuol dire che non voglio una cosa del tipo Milan-Liverpool, eh, non voglio una roba simile, ovvero, cioè ragazzi, non sta più succedendo niente, è assurdo che in linea non succedano tante robe, ma sono già successe all'inizio, oppure forse adesso, oppure forse adesso, mamma mia, una lancia per fare il tirone. Attenzione, sta arrivando mia madre, questo non è un buon segno, questo non è affatto un buon segno. E ha addirittura suonato due volte, questo non va assolutamente bene, bello il passaggio, bello lo schema, McLean, mamma mia, non vuole entrare, mamma mia, bravissimo Long, Long cavallo selvaggio, Long, 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 non glielo facciamo, si basta farlo così, 4,5, partita, conclusa. 5-1 Ragazzi, in tutte, in tutte le partite del torneo abbiamo fatto più di 4 volte, siamo in cavallo, ce l'abbiamo fatta ragazzi, abbiamo vinto il torneo di San Patrizio. E adesso andiamo a vedere, intanto saltiamo qua tutti, saltiamo con la squadra e per la squadra andiamo a vedere i nostri pre. Ed eccolo qua, comunque ragazzi, detto questo, il video e questa mini serie è terminata, spero che vi sia piaciuto, spero che questo video raggiunga i superi 5.000, mi piace. Lasciate un bel commento dicendo se appunto vi è piaciuto o no su questa serie o questa mini serie, oppure no, non ho niente da dire adesso, quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potete a parlare nel prossimo video. Ciao a tutti!